Lo so, due episodi di Finoff di Filia non li ho riusciti a reggere, lo so, lo so, però, però, devo farlo Eeeh, ciao a tutti ragazzi, ehm, mi sono sputato tutto Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e ben ritornati su Five Knuckles Freddy's Hours 2, ovvero Final Hours 2 Ragazzo, è passata quasi una settimana dall'ultimo episodio di Final Hours 2 Mi mancava tantissimo Golden Freddy distrutto, beh, proprio, muah Mi dispiace tanto per averlo portato dopo un botto di tempo, però, ora ci siamo Continuiamo sto maledetto gioco e cerchiamo di finirlo Noi tutti, insieme allo spre... Allo sprepe gli occhiali che si è rotto Allora, continuiamo, notte, notte, notte Abbiamo fatto la notte 1, la notte 1, la notte 2, notte 2, notte 3, notte 3 di questo Dobbiamo fare la notte 3 della parte 2 e la notte 4 della parte 1 Notte 2, notte 3 della parte 2, notte, notte 3 della parte 2, ok, va bene Che succede qua? No, Golden, Golden Freddy No, c'è Golden Freddy, ecco Ecco, quello che mi... quello... cioè, non volevo giocare, adesso io non gioco più Ci dovrebbe essere Springy? Ci dovrebbe essere Springy? No! Non c'è solo Springy? No! Foxy! C'è Foxy! Non c'è Springtrap! C'è Foxy! Ma che... ma che ci fai tu in stanotte? No! E si è buggato! E si è buggato! E si è di nuovo buggato! Ecco perché non ci volevo giocare più a sto gioco Ma dai ragazzi, non possiamo riniziare con i bug! No! Notte 3 della parte 2 è come la notte 2 della parte 2 In poche parole, anziché esserci Foxy e Freddy C'è Foxy C'è Foxy, non c'è Springtrap C'è Freddy e Foxy Quindi devo resistere Devo resistere a Foxy No, 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 aspetto un attimo Qua la cosa è diversa Qua Foxy mi sembra molto più veloce Se è come appunto Springtrap e Freddy Infatti Freddy è là Ok Dovevo attaccarmi la seconda volta Freddy Non adesso Oddio, oddio, ti prego Non fammi giocare a questo gioco Guardate! Se vi buggavate tutti e due Vi tiravo 4 mazzolata in testa Se aspettate un attimo che lo vedo sotto Eccolo! Arriva Foxy, arriva! Ok Ok Foxy Sei molto più veloce Questo te lo devo dire Ragazzi è molto più veloce di Springtrap Questa è una gara tra Springtrap e Foxy Voi chi votate? Foxy o Springtrap? Eccolo, eccolo che veloce Eccolo che veloce 1, 2, 3, 4, 5 Dopo 5 secondi Che è stato nel corridoio È venuto qua dentro Ma di come? Almeno tu Foxy Non puoi buggarti come Springtrap Che? Che è sta musica? Che è sta musica? Ragazzi è una musica strana Non c'è solo la musica normale di FNAF C'è pure un'altra musica di sotto Qualcuno ha cantato l'inno a non so chi Inno a Foxy Forse è l'inno a Foxy Guardatelo là Foxy Come cavolo corre? Foxy mi stai uccidendo Freddy non c'è È andato via In compagnia Di Foxy Freddy lo c'è E è andato via In compagnia Di Fredbear Cioè Perché adesso abbiamo Foxy? Mi ha fatto perdere un botto di tempo Sai? Non bancatevi Mi devono far buttare parolacce Freddy sbrigati Stanotte non può essere più facile Di Springtrap e Fredbear Ma a quanto pare lo è Dov'è Bonnie quando serve? Sei nel mattino Pensavo fossi entrato Senza volere in un minigioco Ci sono entrato in un minigioco Avevo cliccato la chitarra di Bonnie Pensavo di entrare in un minigioco Ma a quanto pare mi sono ritrovato lo stesso in un minigioco Oddio Che cos'è sto luogo? Tutto rosso Tutto bagato Tutto Che cosa sono ste luci? Nel muro Che cos'è? Ma è brutto È tutto sangue È dentro la pizze E là E là Qua è buio Allora Non avere paura Allora Chi è questo? Spiegami Questo non è nel purple guy Questo ragazzino Questo ragazzino Questo ragazzo Il ragazzo forse di inizio gioco? Vabbè Facciamo tecnica del purple guy Ovvero Urlare come una checca Andare di contro È sparito Lo devo ammettere Questa tecnica Funziona sempre Ok Andiamo Una porta A posto E là Posso anche uscirci di nuovo? No Ok Grazie mille Adesso dovrebbe spuntarmi il purple Ma ne sono sicuro Oh Anziché andare dritti Siamo andati a sinistra Wow Lo sapevo Lo sapevo Ma c'era scontata questa Non urlare Mi sono spaventato un attimo Però ci siamo Ok ragazzi È stata molto semplice Questa notte Della parte 2 Strano eh E andiamo a fare La notte 4 Della parte 1 Allora Se Foxy c'era nella notte 3 Vuol dire che Foxy Ci sarà nella notte 4 Però ragazzi Nonostante i capelli Io non dimentico Danza della vittoria Io non la dimentico Io non la dimentico mai Rifacciamola Ok Continuiamo Notte 4 Della parte 1 Ci sarà Foxy Però noi siamo bon Cioè Noi siamo bonni Cioè Ho sbagliato completamente Volevo dire Noi siamo pronti Non noi siamo bonni Già che ci siamo Visto che qua Stanno tutti a farsi I loro cavoli Io devo stare sempre su Foxy Foxy non c'è È andato via È andato via Foxy è andato via Oh Foxy Quanto sei veloce Cacchio Oddio Foxy è velocissimo Foxy è veloce Non posso nemmeno controllare Ragazzi Non posso nemmeno controllare Che Foxy è troppo veloce Per me Non mi dire che c'è solo Foxy Uuuuh Ma cioè Foxy quando corre fa solo Nia mia 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 Cioè perché quando corre fa Nia mia 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 Allora Ho visto Bonnie Ho visto Foxy Mo ci sarà Freddy E Chica E io sono fregato Non pensavo fossero così veloci Tutti quanti Maledizione Foxy Un pochino fermo Ti stai stare Foxy Foxy Comunque Comunque Noto Noto E dico Noto eh Noto Che Chica Praticamente Chica Mi frega Mi vuole fregare Per Foxy Sì Foxy è stato bloccato là Ma che fe che fa Bababababababababababababababababa Ma basta Ma canta Qualche canzone Piratesca Che ne È stato bruttissimo È stato bruttissimo Mi sono preso Uno spavento Ho sbaccato qualcosa No Per fortuna No Ecco cosa succede A sottovalutare Questi animatronics Giocateci voi A sto gioco E maggio Eigen disagree Freddys non fa paura, no, non fa paura, no, no. Mi sono preso un infarto. Strategia, stiamo fermi e vediamo solo chi passa, ok? Non faccio più nulla. Arriva lui, arriva lui, arriva lui, sta arrivando, arriva lui, arriva lui. Eccolo. Il problema è che è tutto buggato sto gioco. Così, bravo, bravo, ecco la Chica. Ok, dopo Chica, di nuovo Foxy. Non cantare così! Gioco buggato, tutto gioco buggato. Questo gioco è tutto buggato, non mi fa spostare bene. Ehi là, ehi là, no, no, adesso arrivo Foxy. Non mi faccio fregare da Foxy. Sì, damn, 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 damn. Perché non canti? Ehi, bravo, 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 bravo. Wow, wow, da, la, 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 la. Qua, sta alancando. Ehi! E in due mi attaccano. Uno? Non buggatevi. Non si sono buggati. Grazie al cielo. Grazie al divino Bonnie Oddio forza Non l'accore 2,33 Sì Minigioco Eh vabbè ormai è consueto Faresti minigioco No sta canzone no Sta canzone Sta canzone è molto felice Troppo felice Io corro Io corro Oh, posso anche saltare Finalmente un minigioco in cui posso saltare E da quando Golden Freddy gira la testa Ma che c'è Il puppet Ma è diventato il puppet Questo è diventato il puppet Sorry Sorry chi? Sorry him Scusalo, sorry Sorry what? What è che c'è scritto? Lo abbiamo fatto la quarta La quarta l'abbiamo fatta La quarta della parte 2 Ci posso provare? Allora ci tendiamo a farlo Cioè per vedere un attimo come funziona Oddio Golden Freddy Davvero ci sei stavolta? Ecco chi c'è dentro Golden Freddy Ecco chi c'è dentro Golden Freddy Chi è quello? No, 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 chi c'è? Fantai Direi che possiamo continuare il prossimo video Ok ragazzi Mi ho avuto abbastanza Io direi che per oggi Questo episodio lo posso anche concludere qua Spero tantissimo che vi sia piaciuto Mi raccomando il prossimo episodio Credo che sarà l'ultimo Fermo Il prossimo episodio credo che sarà l'ultimo Forse Forse Non lo so Non lo so Non voglio nemmeno immaginarlo E niente ragazzi Per il prossimo episodio Raggiungiamo i 2000 like E ragazzi Se non siete ancora iscritti al canale Che cosa aspettate? Iscrivetevi immediatamente Mettete mi piace alla pagina di Facebook Subitemi pure su Instagram E noi ci vediamo Ad un prossimo video Eeeeh Date la vittoria Ciao 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 Grazie a tutti.